Non serve l'intro per questo video ragazzi perché adesso facciamo subito il cambio di inquadratura andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questo lotto che mi è arrivato non so non ci ho preso questo lotto che mi è arrivato oggi stesso quindi adesso faccio subito il cambio di inquadratura e cominciamo a vedere le carte una dopo l'altra senza perdere ulteriore tempo perché tanto è inutile e vi faccio tutta l'intro lunga per dirvi quello che so per fare tanto lo vedete pochi secondi dopo quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno Allora eccoci qui con il cambio di inquadratura e siamo qui nella postazione dello pacchettamento che oggi useremo per vedere cosa c'è all'interno dell'ordine che mi è arrivato allora se qualche giorno fa avevamo assegnato il premio come miglior imballaggio imballazione, imballamento della confezione oggi assegneremo il premio come imballaggio più puzzolente della storia ragazzi perché l'abbiamo trovato all'interno di una scatola delle scarpe la diciamo è originale come cosa però magari era meglio non usare quella delle scarpe o dell'altra cosa comunque vabbè a parte gli scherzi ragazzi non puzza sto dicendo una cosa, una bagianaggine una bagianaggine una bagianata una scempiaggine boh vabbè insomma sto di una stronza che non è vero che puzza ragazzi io stavo scherzando era solo per fare un po' il simbatico allora a parte queste intro un po' così diciamo vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questa scatola adesso voi starete per vedere una cosa che probabilmente vi farà drizzare i capelli io non ce l'ho, l'ho tagliata apposta così a meno non mi si possono drizzare mentre sto a vedere sta cosa ma state tranquilli perché ho già dato una controllatina allora ora vedete i mazzetti di carte con l'elastico ragazzi questo è l'incubo di ogni collezionista ragazzi vedere delle carte raccolte con un elastico non c'è cosa peggiore al mondo però adesso prima vorrei togliere tutte le carte da dentro la scatola mettiamo qua così poi vediamo tutto perché allora attenzione attenzione e attenzione ah ci stanno anche questi segnalini no è rimasto uno abbiamo anche dei segnalini eccoli qua i segnalini danno da 10 punti l'uno da 10 danni l'uno questi li possiamo fare così e togliere e abbiamo attenzione adesso vediamo tutto quanto allora come dicevo ci sono gli elastichetti quindi uno è già preoccupatissimo però state tranquilli ragazzi ah come avrete notato qui c'è sta un mazzo zappa chiampali tutti aperto è già usato che stava all'interno della scatola però l'ho tolto per vedere cosa ci fosse all'interno perché nel frattempo mi sono poi dato un'occhiata al volo tranne che questi mazzi che non li ho visti bene però adesso basta perché tipo come al solito ci ho messo tanto per introdurre una cosa ah ecco un'altra cosa che vi volevo far vedere sono queste 4 medagliette omaggio vecchissime del 1990 la mia faccia del 1999 se non sbaglio sì 99 wizards ragazzi queste sono quelle che stanno nei massi tematici proprio con quello lì di zappa di insette base e abbiamo censi che dietro è fatto così ecco ah vi volevo fare sta domanda allora dietro questo è censi questo è fatto così quest'altro invece sempre censi con il mio occhio è fatto in quest'altro modo sapete spiegarmi la differenza fra i due diciamo oggettoni fra i due coin perché sono diversi perché poi questi altri due sono sempre di censi però hanno lo stesso artwork dietro di questo qua quindi c'è una 3 con quest'artwork e il quarto con quest'altro metti a fuoco vorrei sapere se c'è una differenza pure lo spessore questi 3 sono più fini quest'altro è più spesso magari una inglese e quell'altra l'italiano boh può essere non lo so comunque li metteremo qua dietro da sfondo dopo vedremo la situazione poi abbiamo questi 3 che in realtà sono ecco 3 più 1 3 come cacchio si chiamano albumini diciamo delle regole da gioco che stavano appunto all'interno di quei mazzi che io non ho mai portato sul canale non l'ho mai aperti perché lascio sempre per collezione quelli che ho comprato quindi non li apri mai però qua vi fa vedere al volo ve lo faccio vedere pure io al volo i mazzi del set base che sono pure segnati 1, 2 4 e 3 non so perché in quest'ordine comunque boh ci avranno una logica magari non lo so e vabbè niente questo qui era il mazzo però vabbè tanto queste cose non mi interessa e ce ne abbiamo 1, 2 e 3 questo qui ragazzi è un lotto preso diciamo un po' alla cieca quindi alcune cose le so alcune cose non le sapevo tipo questi tre cose non sapevo ci fossero all'interno però mettiamoli qua dietro da sfondo perché arricchiscono tutto il contenuto sfondale sfondamento dello sfondo e adesso andiamo a vedere che qui c'è sta le regole del set introduttivo vabbè insomma sempre la stessa cosa sta all'interno dei mazzi però qui abbiamo niente una specie di volantino quelle cose dodo magica magia per prima edizione qualche disegno quella si spiega come si gioca quindi come vengono collocate le carte nel nel tappetino non so neanche se si erano rimaste le stesse le regole o sia cambiato qualcosa nel passare degli anni perché questo è del 99 quindi magari qualcosa è cambiato non lo so perché non gioco e poi abbiamo queste tre carte ragazzi queste qua forse senza forse loro si trovano appunto all'interno dei mazzi ed eccole qua spettacolari queste subito nella sleeve e le mettono nella parte dell'album in cui ci sono le carte promozionali mettiamole qua dietro così a caso adesso finalmente possiamo cominciare a vedere le carte che ci sono in questi mazzetti allora io direi di togliere subito questo mazzetto perché contiene cioè più che altro almeno posso levare l'elastico contiene tutte carte energia quindi queste qua non ve le faccio nemmeno vedere cioè faccio così al volo stanno pure alcune girate energia psico energia lotta energia acqua energia erba vado velocissimo energia so registrato? sì energia elettro ragazzi sempre tutte le set base energia acqua velocissimo energia psico energia lotta energia fuoco energia erba vabbè insomma avete capito no? tutte queste cose quindi queste qua è inutile che ci soffermiamo a vederle perché sono tipo le carte quellette ci danno un più quando prendi lotti le carte tutte le carte inutili le mettono là però sono sempre le set base quindi tutto fa brodo allora dato che queste le ho viste possiamo metterle qua dietro così allora primo mazzetto ho visto se è sotto qualcosa perché non spiana però non so ci posso fare niente vediamo vediamo un mazzo un mazzo a caso questo qua che non so che carte contenga siamo pronti allora sicuramente se sono carte comuni andrò molto veloce perché tanto non mi interessa nello lo so però andiamo a vedere cosa c'è allora abbiamo Charmander 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 quello in condizioni migliori lo metterò nell'album Charmander poi abbiamo Raticate ma era raro no Raticate come hanno un comune giusto Dratini Doduo Rattata a proposito di Rattata c'era una persona che mi aveva chiesto un Rattata bello da collezionare questo è abbastanza bello poi abbiamo Jigglypuff Miau PJ 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 Eevee Team ah basta quindi è finito il sette basi mettiamo le comuni qua e abbiamo Eevee del Team Rocket comune spettacolare forse mi mancava pure no no ce l'ho le comuni ce l'ho Fear of the Jungle non comune Farfetched non comune ah no questo è tornato al sette base ma che cacchio Porygon del Team Rocket questa ce l'ho Porygon normale e Porygon vabbè quindi abbiamo tipo trovato tre intruse che è un sette jungle e due del Team Rocket così a casa ce le mettiamo qua sotto per ricordarci che non c'entrava un cacchio e le mettiamo qua però adesso aspettate un attimo fia il naso adesso con soffiato il naso possiamo andare a vedere il secondo mazzetto allora io direi di andare anzi il terzo mazzetto perché questo era il secondo che avevamo visto anzi togliamoci subito pure questa altra energia così almeno le togliamo da qui che impicciano energia vabbè non ve lo dico ragazzi ho sempre energia 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 mazza quanta energia che ce faccio manca una prima edizione poi ci fosse qualche energia prima edizione no tutte non comuni cioè tutte unlimited niente 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 questa rovinata noi c'è questa la buttiamo energia 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 non posso mai farla ragazzi questa è una prima edizione però sono sempre le solide energie regalate così random questa energia la stavo per buttare però ho deciso ragazzi la regalo a chi fa il commento più originale vi dovete solo pagare la spedizione per mandarvela non so quanto costa per una carta sola 2 euro 3 euro ve la regalo anzi invece faccio la firma come quelli famosi e ve la regalo però mettiamola qua sotto che adesso non ci serve anzi la lascio qua dietro se vi ricordate un bel commentino e adesso andiamo a vedere no rovina tutto lo sfondo ragazzi rovina lo sfondo la butto qua sotto poi dopo si rivedrà adesso andiamo a vedere un mazzo un po' più interessante ragazzi perché qui abbiamo vedo una prima edizione del set fossil ed è uno upside che è proprio uno upside che ho pubblicato ieri se non sbaglio l'altro ieri boh ma non mi ricordo guardate che spettacolo l'artwork dello psyduck è riflesso nell'acqua comunque andiamo con psyduck homonite homonite tentacule graveler gustly oh scusate non si vedeva bene shelder horsey tentacruel kingler kingler sensu kabuto kabuto pserara prima edizione di fossil questa è buona questa sarebbe da mettere nella sdive però adesso lascio un attimo qui golem non comune prima edizione e basta poi abbiamo drausi abbra tangela arcanine non comune prima edizione cacchio questa c'ha una scritta qui con la matita ma come si fa devo riuscire e chi niente dovrei riuscire a cancellarla senza rovinarla ma credo sarà difficile poi abbiamo grimer grimer ekans ekans electabats rara prima edizione sì prima edizione e basta solo rara normale dragonair 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 electrode che devo sostituire con una che avevo nell'album rovinata quindi è perfetta anche questa mi serve pg8 idem lo metterò nell'album perché è quello che c'è rovinato arcanine non comune bidrill raro ma qui stanno un po' mischiati tipo rara così a caso vabbè dopo le toglierò poi abbiamo clefari doll clefari doll clefari doll no scherzo questo è pupa pupa oggetti di involuzione oggetti smart ricerca computerizzata rara professor rock l'impostore sempre rara recupero totale non comune scambio di pokemon rara e questa è proprio quella che mi mancava ragazzi allevatore di pokemon forse recupero mi serviva e super rimozione di energia boh beh ce n'era pure un'altra che mi serviva per finire il set base poi abbiamo cadabra qualche copia energia in colore doppia e basta ragazzi questo mazzetto è finito qui ci stavano un po' di carte buone però le rimetto qui perché adesso sono cempicce lo mettiamo il cabotops raro prima edizione davanti e lo metto pure nella sleeve così alla faccia dei cabotops anzi alla faccia devo amassare eccolo qua subito velocemente ragazzi senza perdere tempo e lo mettiamo qua dietro si vede non si vede si si vede prendiamo le sleeve e andiamo con attenzione attenzione questo qua quest'altro mazzetto si dai a casaccio poi ragazzi le belle carte ancora devono arrivare abbiamo sensu ah qui sono altre carte comuni credo sempre del set base perché era dichiuso in due mazzetti in due elastici diversi quindi andrò velocissimo ma ciò ma ciò poi abbiamo diletto ragazzi sembra che sto andando a velocità scusate non si vedeva bene sembra che io sia andando a velocità per due ma ragazzi sono super velocissimo io eh non è che sto andando a velocità per due sono proprio super spi di consas drausi 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 attenzione quello sembra un Abra di Team Rocket eccolo Slowpoke comune di Team Rocket Abra Gas in sette base no siamo tornati al sette base ce l'ho quasi creduto a qualche catta Team Rocket scusate se si vede proprio bene però devo andare molto veloce Jinx Vivi Saur Kakuna Bulbasaur però col trio starter potrei farci tipo un quadretto un qualcosa di carino quindi potrei potrei usare Bulbasaur Squirtle e Charmander per fare un qualcosa Squirtle 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 attenzione Ductrio rara War Tortle non comune Onyx prima edizione comune carino questa ce la metto non è condizioni mint però questa ce la metto proprio mettiamola qua vicino al Capodabs e vabbè niente ho portato già ce l'avevo quindi niente adesso anche questo mazzetto l'abbiamo visto quindi abbiamo visto 1 2 3 4 5 6 7 mazzetti ci mancano 1 e 2 e più ragazzi quello là dietro che è la chicchetta però adesso io direi di andare con queste qua addestramente al volo velocissimamente proprio ragazzi farò una corsa super velocissima addestramente super pozione professor rock prima edizione fossil bene scambio del set base fossile misterioso prima edizione qui sono un po' mischiate prima edizione con quelle non prima edizione queste prima edizione sono tutte buone mettiamo qua poi abbiamo addestramento pozione magica pozione magica ventata ventata potrebbe servirmi lo lascio lì poi abbiamo velocità veloce veloce bill pesca due carte questa ce l'ho super pozione magica centro pokemon questa ce l'ho professor rock sempre professor rock professore difensore questa non mi ricordo proprio plus potenza idem non mi ricordo pokédex è bellissima ma carta però questa ce l'ho poké flauto forse poké flauto poké flauto revitalizante challenge non comune del team rocket questa è carina ragazzi credo non vorrei di una cavolata ma questa carta sta anche nella legendary collection mi sa il reverse è bellissima perché guardate che pokemon ci sono come artork machan pit molly arbox norlax mac e victribble questa è bellissima la metto qua insieme a team rocket pozione magica bill 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 ventata l'abbiamo già vista prima scambio 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 e basta finito pure questo finalmente ci siamo tolti le scatole e mettiamole qua con le tre carte a destraamento sopra è rimasto l'ultimo mazzetto con l'elastico e poi arriva il pezzo forte ragazzi preparatevi con un bellissimo like e andiamo sempre con i set a base che abbiamo un poliwyr non non comune andiamo poliwyr magikarp non comune non comune dugong 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 sì poliwag starmi devo andare molto più veloce ragazzi queste qui sono proprio cioè tipo potrei fare i lotti interi adesso da vendere tipo bello side h team rocket spettacolo mettiamo subito qua insieme a quelli del team rocket abbiamo un golden del set jungle che se non sbaglio questa mi serve proprio questa perché ce l'ho però è rovinata poi abbiamo un magrimite insomma tornate al set base in otto ci sta qualche altro set in mezzo a queste così proprio a casaccio pikachu tutti i pikachu spettacolari quanti sono 4 5 6 6 pikachu belli questi qua li metto tutti bene da un'altra parte mettiamo qua che voi adesso forse non li vedete anzi si li vedete poi abbiamo un dark electro del team rocket sempre qua butterfree non comune del set jungle non mi serve weeping per nemmeno nidorino set base weedle 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 metapod cader p cader p cader p cader p cader p cader p oddish del team rocket mettiamo lì poi abbiamo oddish execute ragazzi non so se avete visto la foto su instagram ragazzi guardate guardate le differenze ci sono non ci sono siamo la unica cosa vabbè insomma execute tangera tangera ekans grimer se comunque si riconoscono subito quando gli artwork sono del team rocket invece che degli primi set comunque vabbè c'è del set base jungle e fossil koffing 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 ragazzi sto durando troppo ogni volta c'è stata di notti vado sempre lento a far vedere le carte nel video allora finalmente possiamo concentrarci sul pezzo forte ragazzi siete pronti questo è un mazzo vuoto così che si può lasciare da parte facciamo così attenzione prese tutte si rimettiamolo qua dietro da sfondo eccolo qua e adesso possiamo vedere le carte che ci sono aspettate un attimo questo voglio fare così allora siamo pronti o non siamo pronti per no scusate non so sicuro questa cosa l'ho fatto allora pronti o non pronti a casaccio questa metto in mezzo finalmente ci siamo ragazzi adesso vediamo le carte chicchette allora abbiamo attenzione boom allora qui ci stanno delle cifre a casaccio non è il valore della carta perché Geridos non è 15 euro abbiamo Geridos olografico in italiano del set base però devo andare molto più veloce di così perché sono molte carte quindi facciamo Geridos poi abbiamo attenzione Mewtwo appunto dicevo le cifre so così a caso non so a che cosa si riferiscono forse stando nelle sleeve magari c'era una carta da 30 euro dentro non lo so comunque Mewtwo olografico ragazzi guardate spettacolo swirle e ne abbiamo uno e due e forse anche tre no questo è un altro due Mewtwo del set base olografico che mettiamo qui vicino al mazzo zap che ci sta perfetto eccolo qui one e two poi andiamo con attenzione Mewtwo promozionale in italiano questo questo già c'è stava stesso artwork adesso ce faccio caso lo stesso artwork del mazzo zap non lo sapevo abbiamo attenzione altro Mewtwo basta Mewtwo olografico che mettiamo sempre qui vicino al mazzo anzi davanti al mazzo l'altro ormai l'abbiamo coperto poi andiamo con attenzione Raichu olografico del set base guardate che spettacolo lo swirle nell'artwork qua sta fantastico ragazzi queste cose negli artwork sono bellissime mettiamo Raichu qua poi andiamo con attenzione un altro Raichu sempre in italiano lo swirle questo non so dove ce l'abbia non ce l'ha proprio e lo mettiamo qua dietro poi andiamo con attenzione Nido King olografico set base questo ha lo swirle vicino al nidorino questo qua mi serviva proprio perché lo devo mettere al posto di quello che ho nell'album ce ne sono due guardate che spettacolo ecco questo c'ha lo swirle dietro la mano comunque andiamo più veloci ragazzi ci sto mettendo troppo porca miseria copriamo l'onix tanto vabbè poi andiamo tu stavo stavo sbagliando mazzetto dei cart e abbiamo attenzione Dragonite promozionale lo mettiamo qua dietro che c'è l'onix 3S Machamp prima edizione questa tosse è micidiale questo è quello del mazzo introduttivo per due giocatori vabbè lo conosciamo tutti possiamo anche non metterla qua dietro però ce la mettiamo a casaccio poi andiamo con attenzione Magneton olografico del set base al spettacolo l'olo e lo mettiamo lo mettiamo lo mettiamo qui così coprirà le carte dietro? no si fa un po' riflesso brutto ecco no c'è stava la mano mia dove la metto? così a casaccio qua sopra poi andiamo con Hitmonchan olografico sempre del set base lo mettiamo qua poi abbiamo attenzione un altro Hitmonchan hashtag Hitmonchan bellissimo poi abbiamo attenzione Clefari prima edizione olografico del set base numero 5 di 102 le condizioni come potete vedere da soli non sono perfette però questa è una prima edizione e credo che la metterò proprio al posto della limited che ho nell'album si metterò proprio quella in prima edizione anche se è un po' più rovinata però è prima edizione altro Hitmonchan però questo qui ragazzi ha lo swir fantastico spettacolare qua sopra e lo mettiamo qui come ho già detto prima il prezzo è un prezzo diciamo random ragazzi non c'entra nulla con la carta stessa anche perché c'è scritto 9 mettiamoli così se reggono belli ci stanno però caprono un minuto vabbè sti cacchi poi abbiamo attenzione Alakazam è bellissimo olografico del set base guardate l'artwork bellissimo sono uno o due no uno solo mettiamo Alakazam a posto di energia psico poi andiamo con attenzione Ninthels olografico set base bellissimo l'artwork di questo Ninthels ricordo che non so se stava nei mazzi però io mi ricordo che questo ce l'avevo già proprio tantissimi anni fa comunque vabbè quindi io cercevo le olo era solo perché compravo i mazzi non perché li trovo nei pacchetti perché trova nei pacchetti ciao poi abbiamo attenzione Censi olografico del set base questo non mi serve perché ce l'ho in prima edizione quindi vabbè l'ho messo ho preso così giusto per stava nell'otto quindi l'ho preso e poi abbiamo attenzione attenzione zaptos zaptos olografico tutti perché eccolo qua miu antico olografico perché ovviamente è olografico 1995 96 98 99 nintendo game fake 1999 2000 wizards ragazzi questo qua ce l'ho già in PSA lo mettiamo dietro davanti al geridos e finalmente ci siamo ragazzi siamo arrivati verso le ultime carte perché c'è un mal decola riesco più a parlare abbiamo attenzione poliprat olografico set base spettacolare questo c'ha qualche suirle da qualche parte no e lo mettiamo sopra i pecans così però servirebbe una cosa da mettere sotto per tenere le alzate ho un taglierino vediamo se funziona no però vabbè uguale poi abbiamo attenzione here comes steam rockets olografico questa qua ce l'ho già quindi ce la faccio una mettiamo qua poi abbiamo attenzione ragazzi perché adesso arrivano i pezzi forti i pezzi forti dragonite fosse il prima edizione in italiano questa potrebbe essere utile da mettere nell'album poi abbiamo ultime carte quante sono rimaste quasi finite sì ci siamo quasi ragazzi ci siamo quasi abbiamo attenzione Mewtwo olografico ce l'ho già tre questo è il quarto spettacolare l'artwork ragazzi condizioni dell'artwork guardatelo perfetto neanche mezzo grafico nulla di nulla lo mettiamo qua davanti ragazzi di Mewtwo e poi abbiamo attenzione ragazzi perché adesso arrivano sboom non c'entra niente flareon olografico set jungle eccolo qui sleeve rovinata quindi fa sembrare la carta rovinata messa la sleeve e lo mettiamo vicino al al che sopra il picoce vaffancino e adesso sono rimaste tre carte ragazzi queste tre carte sono belle ignoranti quindi preparatevi subito con i like 26 minuti ma come è possibile questa dura così tanto vabbè attenzione blastoise olografico del set base numero 1202 spettacolare che mettiamo subito subito qua penultima carta charizard olografico sempre del set base in italiano guardate spettacolo quindi abbiamo charizard e blastoise e per finire voi pensavate questo fosse venasauro invece no perché abbiamo blastoise del set base olografico ragazzi guardate le condizioni dell'artwork spettacolare quindi abbiamo blastoise blastoise e charizard colpo di scena nessuno si aspettava due blastoise e un charizard però siccome avevo più venasaur di blastoise ho deciso di prendere due blastoise eccoli qua spettacolari questa è subito la immagine di copertina e niente ragazzi mi sono dilungato un po' troppo in questo video sinceramente ci ho messo un bel po' a farlo però quando sono lotti le carte ci metto sempre tanto non mi smentisco e quindi niente per oggi è tutto spero il video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti perché ci sono molti altri video da vedere da pubblicare da non pubblicare eccetera eccetera quindi seguitemi anche su Instagram appunto per vedere la foto Leonardo Brassetto G Brassetto C e niente per oggi è tutto like, subscribe, share e tutto quello che volete grazie a tutti Grazie a tutti.